Ciao gentaglia, sono ShotaHateU, questo è Breaking Italy, è primo dicembre e come ogni primo dicembre possiamo essere contenti per varie cose tipo adesso arriva il Natale, vacanze ipotizzo, ma anche l'annuale ricerca del sole 24 ore che come un caldo vento di scirocco soffia sulle bracci del campanilismo italiano mettendo in competizione ogni anno le varie città italiane per decidere seguendo vari parametri quali siano le province italiane con la più alta e la più bassa qualità della vita e questa è la venticinquesima volta che fanno questa roba qui che è iniziata negli anni 90 la cosa che si può facilmente immaginare è che se anche tanto è cambiato negli ultimi 25 anni o forse non così tanto ciò che è rimasto immutato è il netto divario tra il nord Italia che vede le città con la qualità della vita più alta e il sud Italia che invece vede in genere la qualità della vita più bassa e questo fa litigare tutti perché ovviamente ognuno di noi è convinto che la propria città sia quella con la qualità della vita migliore in assoluto perché la mia città è la mia città infatti io sono molto offeso il fatto che Cagliari anche se ha guadagnato 4 posizioni dell'anno scorso risulta 63esima e vedrete che a fianco a ogni città c'è un punteggio che viene calcolato guardano un sacco di variabili che attengono a parti diverse della città e del funzionamento della città che può significare che sì magari c'è poca criminalità ma tutto il resto non funziona e quindi cose i primi quest'anno sono Reggio Emilia al quinto posto, Belluno al quarto posto, Modena al terzo, Trento al secondo e Ravenna è la città che è stata considerata il posto migliore nel quale vivere in Italia in questo momento quindi se siete di Ravenna dovremmo invidiarvi e magari vi invidiamo però non lo diremmo mai perché è così che funziona il campanilismo bla 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 ridateci la gioconda anche se non c'entra niente e soprattutto sanno tutti che la miglior città è Cagliari della quale io mi lamento continuamente ma è Cagliari e non c'è dubbio su questo in fondo alla classifica quest'anno ci sono Taranto al 103, Caserta al 104, Foggia al 105, Reggio Calabria al 106 e all'ultimo Agrigento al 107 posto e quindi cose storie potreste non essere d'accordo con questa classifica ipotizzo ve la lascio in descrizione qua sotto ci sono i commenti buon divertimento così ne possiamo andare oltre e parlare di qualcos'altro perché non sarebbe un vero lunedì se non tirassimo fuori qualche altro fail tecnologico che arriva dritto dritto da Kickstarter che è una sorta di pezzettino di cuore che se ne va perché sapete quanto mi piacciono le cose su Kickstarter e l'idea che c'è dietro al crowdfunding è il fatto che molte moltissime cose stiano fallendo miseramente sotto la dolce angelica e bellissima luce della completa delusione del hey avevamo detto che avremmo fatto questa roba qui abbiamo preso i tuoi soldi per farlo però sai cosa salta fuori che in realtà non avevamo le conoscenze tecniche non avevamo un buon business plan non sapevamo minimamente come fare questa roba qui e quindi abbiamo creato una porcheria slash non abbiamo creato assolutamente niente però grazie per averci dato i tuoi soldi siamo molto contenti che ci li hai dati hai creduto in noi e no non sto in alcun modo andando verso l'uscita che è da quella parte sto solo facendo dei passi e ti sto ringraziando per aver creduto in noi e nel nostro progetto e sono sicuro che il prossimo progetto sarà fantastico e questa roba cade di continuo ed è accaduto anche per questo oggetto l'iRing che in realtà non si chiamava nemmeno iRing l'hanno chiamato così alcuni giornali italiani non c'entra niente Apple doveva travolgere tutta la nostra vita perché tu ti metti l'anello e controlli tutto il mondo non hai più bisogno di fare niente e apparentemente questa roba è una porcheria a quanto si apprende e sarebbe stato confermato dall'azienda stessa ha una percentuale di riuscita del 5-10% delle volte nel quale lo utilizzi cioè il 5-10% delle volte funziona e il resto no puoi controllare le cose però devi avere un'applicazione aperta nel telefono il che rende il tutto abbastanza inutile perché se ho il telefono in mano uso il telefono e peraltro ha un 100% di possibilità di successo insomma Kickstarter a volte cose fantastiche altre volte no spostandoci in Svizzera credo sia interessante sapere che ieri si è parlato molto di un referendum che è appunto avvenuto in tutta la Svizzera e che si preparava ad essere un'altra di quelle cose che viene cavalcata dalla politica locale in varie alternazioni in Italia compresa come sapete la Svizzera è di là e vicino a casa nostra è un paese particolare con un livello di disoccupazione bassissimo un'economia molto forte e una grande grande immigrazione ma al contrario di quanto la parola possa far presagire perché ormai immigrazione è per molti diventata una parola negativa circa il 25% della forza lavoro in Svizzera è costituito da stranieri che significa che un lavoratore su quattro è in realtà non Svizzera ma proviene da qualche altra parte dell'Unione Europea il che significa che ogni anno 70.000 persone circa vengono ammesse nel paese perché per la Svizzera non valgono le regole di libera circolazione dell'Unione Europea certi tipi di partiti si fanno forti del fatto che c'è questa forte immigrazione per raccogliere consenso e dire che hey vengono a rubarci il lavoro abbiamo parlato di queste cose in passato per pubblicità particolari che erano considerate magari razziste verso gli italiani insomma tutto il mondo è paese e in questo particolare paese ieri si è fatto un altro referendum che voleva limitare brutalmente l'immigrazione situendo un limite dello 0,2% della popolazione totale che non si potesse superare riguardo al numero di immigrati che possono entrare nel paese questo referendum è stato bocciato da tutti visto che il 74% dei votanti si è detto contrario gli Stadini Svizzeri sono stati chiamati a dir la propria opinione e apparentemente questo grande pacchetto di referendum è stato molto discusso e anche abbastanza criticato quindi c'è questo ma tristemente in ultimo non possiamo rimanere nel campo degli esteri dobbiamo tornare in Italia perché ci sono due notizie brutte decisamente brutte delle quali avrete già sentito parlare quindi iniziamo subito col mostrarvi questa roba qui che è il post su Facebook di un tizio l'avrete visto sicuramente perché bastava accendere il computer oggi che blam avreste visto questa roba qui e parliamo appunto di un post su Facebook pubblicato da un uomo residente in un piccolo paese di nome Postiglioni in provincia di Salerno che nella serata di ieri ha il culmine di una lite con la sua ex compagna in merito all'affidamento della figlia visto che hanno una figlia piccola che poi può essere vista semplicemente visitando il profilo dell'uomo io non ve lo linko però è facile trovarlo se voleste trovarlo e proprio per il profilo stiamo parlando di questa roba non solo perché appunto l'uomo al culmine della lite ha preso un coltello e ha ucciso la compagna sotto gli occhi della figlia terrorizzata ma ha anche poi pensato di barricarsi in casa e mentre aspettava i carabinieri che poi avrebbe fatto entrare in casa e si sarebbe fatto arrestare ha scritto anche questo bellissimo post su Facebook molti sono in questo momento offesi perché tante persone stanno mettendo il mi piace su questo post visto che non è possibile commentare e quindi le persone mettono mi piace e tutti sono indignati perché chi mai metterebbe mi piace a questa roba qui e alla fine se possiamo smettere di essere indignati perché sta stronzata è ovvio che tante persone metteranno mi piace c'è chi lo fa perché vuole essere tra i pochi che mettono mi piace prima che il profilo venga tirato giù perché hey! così mi sento importante e c'è chi lo vuole fare semplicemente per dar farsi dagli amici che si offenderanno e si indigneranno ma magari se ci indignassimo per il fatto che questo tizio ha ucciso la compagna peraltro dopo aver preso la figlia se l'è portata in Germania per dieci giorni apparentemente e quindi coltello la donna è mocha se potessimo scocciarci per quello invece che per dei like su Facebook sarebbe meglio perché tanto se non ci indigniamo la gente non li mette i like le persone hanno bisogno che le si guardi e per quello che ridano, strepitano, dicono stronzate perché hanno bisogno che le guardate se voi non le guardate smettono come i bambini ovviamente l'ultima notizia non può che essere invece relativa a un'altra morte questa volta di un bambino di Ragusa Andrea Loris che è stato ritrovato senza vita in un canale dopo essere sparito da ore praticamente a quello che si apprende in questo momento la madre lo avrebbe portato a scuola lo avrebbe lasciato davanti a scuola il bambino in classe non ci sarebbe mai arrivato sarebbe scomparso per ore si sarebbero immediatamente attivate le ricerche una volta che si accorti che un bambino di 8 anni non era dove doveva essere e poi è stato ritrovato e questi sono effettivamente gli unici veri fatti che posso darvi in questo momento perché questo è uno di quei casi nei quali la stampa impazzisce e quindi sono riuscito a leggere tutto e il contrario di tutto mentre facevo la rassegna stampa in merita questa cosa ho letto che subito c'erano dei sospetti poi questi sospetti non erano più confermati che il bambino era molto timido non sarebbe mai andato con qualcuno che non conosceva poi un altro giornale ha invece detto che il bambino frequentava dei brutti giri poi che era stato stuprato una volta poi che era un bambino modello e entrava sempre a scuola poi che era un bambino indisciplinato e non andava mai a scuola ho letto praticamente ogni cosa perché questo è il momento nel quale le persone cliccano furiosamente per sapere più in merito alla storia il che è anche normale perché è ovvio il trasporto verso qualcosa di questo tipo è un bambino chi mai vorrebbe fare così tanto del male a un bambino tutti lo vogliono sapere ovviamente e quindi questa roba verrà sfruttata un po' e se passa un pazzo lanciando gatti per strada e dice di aver visto un fantasma che gli ha detto che una volta quel bambino ha volato a mezzo metro da terra per quindici secondi probabilmente qualcuno scriverà un articolo sull'uomo pazzo che dice che il bambino volava perché è così che funziona e quindi io decido di darvi semplicemente queste notizie e poi vedremo in futuro se ci saranno delle novità e spero che ci siano spero che la persona che ha fatto questa cosa a un bambino di 8 anni venga presa e lanciata all'interno di una struttura nella quale può rimanere tra le amorevoli e calde braccia dello stato per un lungo tempo ipoteticamente spero speriamo fortissimo e quindi questo buon lunedì il mondo è ancora un posto strano è ancora un posto orribile è pieno di persone strane pieno di persone orribili fate i bravi vi abbraccio grazie mille ai nostri alfieri per oggi che tentano di rendere la giornata un pochino migliore con i loro sorrisi grazie mille ragazzi grazie a tutti voi per aver guardato io sono Shota Heiziu questo è la Breaking Italy ci vediamo domani alle 18 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti